buongiorno siamo lieti di darvi il benvenuto a bordo del treno intercity 5 9 4 il treno arriverà a romatelli alle ore 20 e 40 il personale trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e segnalazione vi auguriamo buon viaggio buongiorno siamo lieti di darvi il benvenuto a bordo del treno intercity 5 9 4 il treno arriverà a roma termini il personale trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e informiamo gentili passeggeri che stiamo contattando la sala di controllo per conoscere il motivo della sosta sarà a nostra cura tenervi aggiornati informiamo gentili passeggeri che siamo fermi per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona in prossimità di san donna di piave jesolo prevediamo di ripartire tra circa 20 minuti sarà nostra cura tenervi aggiornati uniamo gentili passeggeri che per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona attualmente il tempo di viaggio è superiore di 45 minuti rispetto a quello previsto siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni attenzione il treno è fermo in un punto vietato alla discesa dei passeggeri siamo in arrivo il treno regionale veloce 36 14 di trenitalia per cliente centrale delle ore 15 e 34 minario regionale 16 13 0 2 di trenitalia per montecenla delle ore 15 e 35 al binario 1 regionale 16 18 8 di trenitalia per vicenza delle ore 15 e 38 al binario 3